Mauro, vi siete regalati una sera, una notte in senso alla classifica? Sì, questo è vero, ma non possiamo prendere tutto il passivo, non ho scontato che la partita era chiusa e se puoi aprirla così non va bene, dobbiamo gestire meglio questa situazione qua. E' lì che dovete migliorare per pronunciare quella parola che Spalletti non vuole pronunciare, scudetto. No, dobbiamo migliorare tante cose, ma una partita come oggi non si può rischiare così, alla fine chiede tempo perché è stata una partita che avevamo dominato primo tempo, secondo tempo e non si può, dobbiamo migliorare su questo. E' un Inter che si sente forte dopo Napoli soprattutto? No, ci sentiamo forte sicuramente perché sappiamo i giocatori che avevamo, le qualità che avevamo e questo ci rende forte, ma ancora è lungo, dobbiamo continuare a vincere come stiamo facendo e poi alla fine vedremo dove siamo. Lo pensiamo rimanere da Champions? Sì, lo pensiamo sempre quello e lo abbiamo detto già tantissime volte. Grazie, complimenti. Grazie.